E' un modo per cercare di capire come e dove portare un po' la regione dal punto di vista agricolo, quindi quali saranno i prossimi obiettivi, quello che in qualche modo dovrebbe venire fuori dall'Unione Europea e come verrebbe declinato poi nei nostri sistemi. Per quello che rappresentiamo noi è magari interessante capire un po' l'aspetto anche ecologico derivante anche dai sistemi zootecnici che abbiamo e che rappresentiamo. Grazie a tutti.